vieni a chiudere il pollaio con me raga buonasera vediamo se oggi riesco a mettere galline e pulcini nel pollaio in meno di mezz'ora e non come la volta scorsa guanti perché mi fa senso toccare le galline ciao è stata una bella giornata oggi wow siete già tutti dentro avete buttato giù la qualunque però che problema minore allora riempiamo le campane che ci tengono compagnia tutti appoggi un attimo qui no no si è salvato mettiamo a riempire questa è la caduta mannaggia dopo riempirò anche quella intanto mettiamogli questa e questa le galline come siete messi con l'acqua bene quindi questo non mi sembrate 10 però adesso vi conto è stato il guanto sapete dire altro non trovo il chiodo ok qui fatto qui fatto allora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove mi sembrate il nove faccio nuovo qui prendo io scusate non riesco a contarvi bene facciamo un giro vediamo se c'è se ce n'è uno ieri ce n'era uno qui non voleva mai entrare dunque oggi non c'è qui non c'è nessuno l'acqua accidenti sta anche uscendo infatti odio sprecare l'acqua anche se è quella di questa cisterna che quindi acqua piovana odio 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 sprecare è una bottiglia vediamo non mi sembra ce ne siano altri in giro anche qui c'è e ci ci sono qui i come si chiamano i lumaconi ma ne abbiamo tantissimi allora non mi sembra di vederne in giro ma io ne ho contati 9 uffa bravi uno due tre quattro cinque sette otto nove e dieci no dieci sì ma non salirci con le zampette tela è il vostro cibo boh raga già fatto non mi sembra vero non mi sembra finisce solo da finisce devo finire solo di riempire l'acqua e ho fatto almeno domani mattina cos'è meno da fare il mio compagno che al mattino almeno ci penso a lui io ci penso la sera ok per me il video può anche finire qui vi saluto anzi facciamo così vi saluto grazie per avermi seguito anche oggi nella chiusura del pollaio e ci vediamo in questi giorni se vorrete per altri video e vi chiedo se vi va di seguirmi di cominciare a seguirmi di mettermi un like se vi va e anche di commentare se avete piacere quindi al prossimo video ciao a tutti